Siamo infatti quest'anno alla quarta edizione del concorso testimonianza ai mille volti del bene comune, testimonianza di solidarietà. Ogni anno affrontiamo un tema di grande attualità, il tema di quest'anno è i giovani e i nuovi mezzi di comunicazione, aspetti positivi e negativi. Su questo tema rifletteremo ascoltando delle testimonianze di esimi relatori, quali il dottor Fittipalli, il capitano Caruso dei Carabinieri di Castrovillari e il nostro vescovo Monsignor Savino. C'è sempre collegato da tre anni anche un concorso artistico riservato ai ragazzi delle scuole elementari, delle scuole medie e del distretto scolastico numero 19, che riflettono su questo tema e poi vengono anche premiati con attestati di merito e con borse di studio i primi premi, insomma i lavori che vengono scelti da un'apposita commissione composta da professori esterni alla nostra associazione. Questo e altre cose come l'aiuto ai ragazzi stranieri per i quali abbiamo organizzato un corso di lingua italiana, come gli aiuti alle case famiglie, gli aiuti alle famiglie indigenti, alle quali non provvediamo in modo diretto, sempre tramite associazioni o fondazioni, ai quali poi noi in realtà devolviamo il ricavato del vendito di questi eventi, biglietti di questi eventi.